E' stato presentato a Palazzo Lascaris su iniziativa dell'associazione culturale idea.to il libro I frammenti di POC di Guglielmo Poccardi, ematologo che ha raccolto brani scritti nell'arco di 40 anni di vita dal 1975 ad oggi. Nel libro trovano anche spazio la dimensione professionale dell'autore, il rapporto con il paziente e la sua umanità e le difficoltà nell'affrontare la malattia.